Quindi come sapete i fatti li contestualizziamo nel territorio segnatamente di Lendinare come i primi areati che si sono verificati, poi si sono allargati in altre province, in particolare nella provincia di Verona, di Treviso, di Venezia, nella nostra origina, se non sbaglio anche nei paremini Friuli, e abbiamo, quindi diciamo così, ci ha assicurato alla giustizia tre soggetti pluri pregiudicati, tre cittadini romeni, responsabili di numerosi furti ai danni dei santuari.